Buongiorno mamma, allora cosa fai adesso? Adesso mi faccio un bel gratino Va bene, dai, vai, fai il tuo bel gratino Devo divertirmi Allora, pronti? Allora, io ho fatto un tre Un 43 Un 36 Un 39 Un 39 9 24 Un 8 41 E un 35 Va bene, vai mamma Vai Allora qua Niente Questa, niente Vai sopra 41, 42 e E 32 Niente Vai 8, 11, 12, 33 Niente Niente No, niente Il tuo amico 17 Eh 9, 9, niente Niente 7, niente Allora, 7 39, niente Niente 36, 37 Niente 43, niente 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 proprio Va bene, salutiamo Ciao, ciao a tutti Dai che ne fanno un altro Dopo ti va a tottenere un altro Via Dopo ti va a tottenere un altro Tittio Gratti Dopo fanno un altro video oggi Va bene Va bene Buona giornata Ciao, ciao a tutti Sono, sono spechinata Ciao a tutti Sono tutta spechinata E ciao anche della Kira Ciao a tutti